Salve a tutti oggi sono qui con un nuovo tutorial stavo per dire no è un unboxing un po' diverso solito sono come vedete una scatola di scarpe ma non sono scarpe normali bensì sono delle scarpe per andare a correre sono le nuove scarpe della Asics gel cumulus un attimo che vi faccio vedere qui sono le gel cumulus 17 sono di colore blu molto molto eleganti cosa hanno di particolare queste nuove scarpe hanno del gel qui qui in basso anche qui vediamo la suola delle scarpe molto 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 bella come vedete molto ergonomica ecco qui vediamo bella blu interno della scarpa eccolo qui prezzo 129 euro per una scarpa per andare a correre ho scelto questa scarpa perché avevo già in senza il modello cumulus 14 con il cumulus 14 ho fatto più di mille chilometri e ultimamente notavo che non ammortizzavano più cosa dire di questa di questa meravigliosa scarpa per andare a correre c'è una scarpa sinistra c'è un piede sinistro c'è anche un piede destro ci sono due scarpe niente la scarpa è molto bella molto elegante l'ho già provata anche molto leggera si nota subito la differenza si ha la sensazione di galleggiare sul mentre si cammina ammortizzano molto bene per il mio peso forma che non vi dico e le feste di natale si fanno sentire quindi bisogna riprendersi un attimino andare a correre niente oggi mi sono comprato queste queste belle scarpe dopo andrò a provarle comunque vi do un consiglio sono veramente delle scarpe molto buone e quindi se volete delle scarpe delle buone scarpe per andare a correre questo è sicuramente una motocicletta sicuramente non una delle più economiche ma è la sensazione di come vi spiegavo prima navigare o galleggiare sul pavimento di non sentire gli spazi ne vale la pena se uno corre come me due o tre volte alla settimana quei 15 20 30 chilometri per le articolazioni è molto importante avere delle scarpe molto molto buone questo sono il mio consiglio sono le Asics faccio di nuovo Asics come lo 17 l'ultimo modello eccolo qui vediamo che metto a fuoco eccolo qua niente anche prezzo 129 euro fresche fresche dal negozio niente grazie grazie per l'ascolto guardate che scarpa ma guardate che scarpa è una meraviglia è una meraviglia è una meraviglia grazie 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 grazie